mi metto già a ridere raga perché la serie dei giochi incredibili per i trofei big easy è arrivato a the pigeon g the pigeon g andiamo tutorial questo gioco è molto difficile bisogna fare cose incredibili 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 r1 raga e apriamo il primo trofeo the drop of first present in your andiamo 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 quante macchine gli scagazziamo sopra raga è incredibile la cacchetta 1800 metri e vai altro trophy vediamo un attimo un milino trofeo 125 chilometri andiamo avanti 1500 e siamo ancora a bronzo siamo ancora a bronzo amici miei e vediamo la cacchetta del piccione a 2000 ah ah guarda amore mio fa la cacchina fa la cacchina e a 2005 bella lì uccellino uccellino scagazzino vai non possiamo dire tante quale lacce ma raga questo questo qui è un gioco fantastico cominciamo con gli argento amici miei ma quanta quanta ne dobbiamo fare di chilometri per avere questo platino incredibile questa è una serie divertente per avere platini sconvolgenti non mi aspettavo che era così vi dico la verità credevo che doveva fare un'altra roba al piccione ma non questo che sta a fare 5000 5000 eh argento tra un po' arriveranno gli ori raga a 10.000 mi sa eh 10.000 chilometri ecco il primo oro il primo oro amici miei voi forse non li vedete i trofei ma le storie oh ah ah domesticate bird a 3.5 arriva l'altro eccolo qui due mila due mila due mila novetta due kill ah 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 incredibile 7.000 7.000 pigon save throws all human life during save world ah 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 7.500 ma io credo proprio che arriverà a 10.000 ozzi di chilometrozzi o di morti cos'è che succede cos'è che succede vediamo pigon can recognize themself mamma che inglese ragazzi che sentite da marco jams games channel mamma mia mamma mia quanta ne sta a fa sto bird sto bird eh raga questo piccioncello e ci siamo ragazzi piano 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 pianino è arrivato il platinino ah 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 vabbè 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 eccolo qua è arrivato il platinino ok resume assolutamente no ma assolutamente anche non salvare ah 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 e andiamo immediatamente a cancellare questo gioco fichissimo che vi farà guadagnare un platino easy 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 incredibile incredibile a scagazzare sulle macchine e sulle teste della gente the pigeon g amici miei marco drums games channel sempre sul pet sempre trophy hunter e sempre a portarvi la serie divertentissima di questo bellissimo piccioncello e tanti tanti animali andate a vedere gli altri video con la mucchina e il maialino ciao ragazzi da marco drums games channel è tutto seguite il mio canale youtube e mi raccomando i mega mega video che faccio tutti 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 original marco drums e anche la mega serie di live su twitch eh mi raccomando seguite marco drums games channel su twitch e nei social assolutamente facebook twitter instagram tiktok sempre marco drums games sempre sul pezzo ciao amici miei alla prossima iscriviti al canale